La voglia di dimostrare è tanta. Io adesso mi sento bene, ho iniziato dalla scorsa settimana ad essere al 100%. Spero nel prima possibile di essere chiamato in causa dal mister e di aiutare la squadra in questo momento non facilissimo, non tragico, ma neanche quello dei primi tempi. Quindi spero il prima possibile di poter giocare e dimostrare. Logicamente io ho pagato il fatto di essere fermo da marzo dell'anno scorso. Questo mi ha penalizzato un po' perché è arrivato qua, gli altri avevano già una forma fisica avanzata. Io invece partivo da zero, però ho lavorato e adesso inizio a star bene. In questo momento gli attaccanti non stiamo trovando la via del gol, però non dobbiamo mollare adesso. In allenamento comunque continuiamo ad allenarci sulle finalizzazioni. Dobbiamo, secondo me, cercare di giocare un po' più con la squadra e anche attaccare la profondità nello stesso tempo e poi speriamo che verranno in fretta questi gol. Logicamente il lavoro dell'attaccante è fare gol. Comunque mi reputo un attaccante che gli piace lavorare con la squadra, ad altronde come anche gli altri miei compagni. Comunque ognuno ha caratteristiche diverse, però ci mettiamo sempre a servizio della squadra. Cerchiamo di far reparto, di portare su avanti la squadra e logicamente appunto in questo momento ci sta penalizzando il fatto che non riusciamo a segnare. Però secondo me lavorando come stiamo facendo è solo questione di tempo. Mi reputo un attaccante che gli piace attaccare la profondità, ma allo stesso tempo se la squadra ha bisogno di venire a supporto, cercare di portare sulla squadra, di tenere la palla e logicamente cerco di sfruttare ogni occasione. Se mi arriva una palla giusta o riesco a modellarla a mio modo, cerco di finalizzare l'azione.